LUCI E COLORI PER SOGNARE Così recita il titolo del concerto che si terrà venerdì 27 maggio al Teatro Agnelli di Torino. Lillo Di Franco interpreterà con il suo stile i classici che hanno fatto la storia della musica leggera insieme a suoi brani inediti, accompagnato dai musicisti Carlo Baggini, Ivano Gruarin, Angelo Ieva, Federico Ariano e delle coriste Rosanna Cocchis e Chiara Calabresi. L'iniziativa si svolge in un teatro, il Teatro Agnelli a Torino, un teatro anche molto bello, rifatto per cui anche comodo ad ospitare manifestazioni del genere con un'ottima acustica e nello stesso tempo si svolge facendo della musica leggera. Musica leggera che praticamente è quella che io ho sempre fatto da ragazzo, da bambino fino ai giorni nostri. Io per mia volontà non ho mai voluto cantare testi che non fossero italiani perché mi piace interpretare, piace sapere, sentire quello che dico. Io non sapendo l'inglese o altre lingue chiaramente mi adego con quella nostra e quindi faremo delle cover perché sono seguito, insomma sono accompagnato da dei musicisti e quindi faremo. Il concerto non è solo mio, il concerto è di tutti, io metto la voce. Alcuni brani saranno anche miei, mi permetterò di fare alcuni brani che ho scritto sia testo e musica che i musicisti stanno anche arrangiando. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione Il Villaggio dei Bambini Odivi che promuove progetti a sostegno a distanza per bambini e strutture per l'infanzia in Burkina Faso, Corea del Sud e Brasile. Poi ci saranno degli ospiti, ospiti che io ho voluto, ho voluto perché li conosco, non perché ho fatto delle richieste specifiche e mi avarrò della presenza di uno scrittore. Ci sarà un artista che è colui che disegna gli ospedali, quindi ospedali dipinti, che si chiama Silvio Irilli, dove presenteremo veramente anche un'ospezione di quello che lui fa. Una presentazione che ha fatto in un teatro a Treviso dove la gente si è alzata e onestamente ha fatto due minuti intensi di applausi che sono una cosa spettacolare perché è veramente un'iniziativa dove lui va a dipingere negli ospedali, nei reparti oncologici per bambini. Il costo del biglietto è a offerta libera a partire da 15 euro e può essere prenotato telefonicamente al numero 333 76 17 566.